Ciao ragazzi e benvenuti in questo insieme, io sono GILUX, oggi ragazzi siamo su un nuovissimo gioco che appunto porterò sul canale Allora oggi non farò Minecraft ma farò The Fair, The Fear, The Fair, vabbè una roba di questo genere Comunque ragazzi è un gioco horror che ho appena trovato su Play Store e appunto ho detto vabbè questo è troppo bello devo portare sul canale subito Però una cosa che non mi piace tanto in questo gioco è che praticamente finisce subito, cioè già c'è la fine Se tu ci nerdi proprio in questo gioco finirai manco venti minuti, cioè un quarto d'ora di gioco fino alla fine, un quarto d'ora eh, poi vi dico Allora io direi di iniziare quindi buona visione New game, eccoci qui ragazzi Allora dove siamo? Allora siamo in una macchina, in questo caso sto guidando io Con chi ovviamente? Ma salve, lei dovrebbe essere mia moglie e lei mia figlia quindi tutto calcolato Ok io dove sto andando? Andiamo al mare Al mare di notte, che cazzo? Porca puttana Dove cazzo sono finite? Ma dai Ma come? Ma stava fuori la macchina, non dentro Ma che cazzo è sta roba Che tra l'altro è il miglior gioco che sta sul telefono Quindi ci siamo ben capiti Oh cazzo chi era quello? Bello il tuo culo cazzo Fammelo vedere ancora, guarda Ah si chiama Marta poi Non ho ben capito Porca puttana Madò Madò che cazzo Madò che cazzo Si è buggato Ah no, tutto a posto Entri Allora ragazzi siamo entrati in una casa Non so, oddio dove sono? Raga no, dove sono? Raga dove sono? Dove sono? Odio queste case porca puttana Le odio veramente tanto Non voglio No raga no Senti Tu che stai lì vicino a quella porta? Non è che Chiudi la porta Ti prendi Ecco bravi Si, educata Brava Tutto tranquillo Oddio Che cazzo è? L'amico di Mr Bean Ok va bene Ok ci siamo Ci siamo Allora qua dice che dobbiamo trovare una chiave Ma dove si trova questa chiave? Io direi di andare al piano di sopra E ho paura Tanta paura Eccoci qui ragazzi Siamo appunto al piano di sopra Non so dove andare Io proverei appunto ad andare dentro delle stanze Così Alla cazzo di cane Porca Quella Puttana Troia No raga Fa troppa paura Troppa Non riesco No raga No raga No 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 Non ci Dove è andato Teddy? Oddio no raga No mi sto caccando in mano No raga Ma poi a parte se vi posso dire una cosa Sono le nove di sera Cioè ragazzi Sono le nove di sera Guardate Ah beh le otto meno Le otto meno un quarto Vabbè Però raga Sto registrando questo video Che i miei genitori a casa Non ci sono Cioè sono praticamente solo A parte che qua non so nemmeno dove cazzo andare Però andiamo Oh Cristo No no raga no Dimmi che non è vero Dimmi che non è vero raga no Oddio Raga no No non ci credo Oddio Non ho paura Oddio 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 Toglimi sta cosa da tosse Oddio oddio no Tra l'altro mi ha anche graffiato Complimenti Le do un consiglio Si tagli le unghie ogni tanto Grazie Allora io direi di andare avanti Perché mi sto veramente cagando No No raga Non ci credo No raga Fa troppa paura No Tra l'altro è andata a finire Il muro questa Cioè Oddio no Raga ho una paura incredibile Io secondo No raga No Non ci credo No 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 Io proseguo Non so dove vado Però Oddio no 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 Oddio Oddio toglimi sta merda Che schifo Che schifo Ma fattela Una lavata di faccia Gesù Madonna mia Allora Apriamo una porta Vediamo No raga ho trovato la chiave Raga ho trovato la chiave Ma ho paura che mi si viene Mi spunta da dietro Sta merda Prendi la chiave Prendi la chiave Presa Raga Nuovo obiettivo Bello quel coso Raga Nuovo obiettivo Scendere al piano di sotto Volevo dire Andare al piano di sotto Ecco la poltrona Di te Di raga Ci dovremmo essere Però sempre una paura di merda Raga No dove cazzo siamo No che sto fatto Raga no Che sto fatto No raga Non mi ha No no Mi ha tolto la porta No raga Ho una paura bestiale Raga ho una paura bestiale Non so che fare Ma io voglio uscire da questa casa Aiutatemi Aiutatemi Io proseguo Non me ne fotte proprio Voglio sfidare la sorte Allora andiamo avanti Torniamo in dire No raga Ho una paura bestiale Raga mi sta Raga mi sta battendo il cuore a mille Ma a mille Cioè Non mi resiste nemmeno una cosa Per fare tipo Per misurarsi la pressione Raga Io vado avanti Che cazzo ne so Che cazzo è Dove merda sono No raga No 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 esci Togli Madonna no Te ne devi andare Te ne devi andare malissimo Da dove cazzo sto andando No raga No no raga Mi sta battendo il cuore a tre miliardi Raga non so dove andare Mi sto arrendendo quasi quasi Eh permesso Disturbo Guarda quanto è verde Ti butto sta cosa No 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 Scusa 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 Io vado di qua Io vado di qua Per la meglio sicurezza Oddio Toglimi sta cosa Oh cazzo Ma poi tra l'altro anche alla E poi anche nuda Cioè non so se mi sono ben spiegato Però io vado qua Non so dove merda andare Sta merda di porta No raga ho paura No raga ho paura No 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 Raga io me ne vado da qua Chiudi sta porta Non si può manco chiudere Cioè figuratevi dove cazzo sto andando Sono uscito Raga sono uscito Madò miracolo Miracolo Sono uscito Vattene Vattene da questo posto di merda Madò mi Mamma mia Sto tremando raga Non ce la faccio più Ma poi dove cazzo mi sta portando questo Cioè in un luogo Non so nemmeno dove Però ok Sto seguendo lui Non so dove Che cazzo è successo Ah ok Siamo in una foresta A dire il vero Damn why did the care break down Che cazzo Ma dove cazzo si No raga Chi è quella cosa all'avanti No 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 Appiccia sta macchina Muoviti No raga no Non ci credo No 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 Che cazzo hai in mano Un manganello Cioè tipo Mo glielo dire Glielo so ne in testa No vabbè Così alla cazzo di cane No raga No 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 Madonna no 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 raga Sto tremando No raga È il peggior gioco che esiste Sui telefoni Non ce la faccio più Il titolo sarà così Ah possiamo giocare? No raga Ho una paura bestiale Vi giuro Ho una paura bestiale Io vado avanti Non so che merda fare Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Dove cazzo è andato? Ma che cazzo succede? Ah ecco Mi fa spostare In posti in posti Con il caricamento Ah ecco ho capito Ma poi secondo me L'obiettivo del gioco Sono due Uscire Cioè Finire il gioco E trovare Stavo Oddio Ecco l'ho appena detto raga L'ho appena detto Stavo dicendo E l'altro obiettivo È trovare questa ragazza Intanto l'ho trovata Proprio adesso Porca puttana Non volevo dirlo Scusa Però oddio Questa macchina è bella Scherzavo Dove cazzo dobbiamo andare? Di là Ok Qua c'è il cesso Andiamo Ah poi non ho cliccato niente E mi è andato da Dove cazzo sono? Non dirmi che sono un ascensore No No raga Ho una paura bestiale Ho una paura bestiale Di stare in questo posto di merda No raga Ho paura No raga No raga No aiuto Te ne vai? Te ne vai? Allora Allora facciamo un 2 e 3 stelle Io mi giro Anzi no Non mi guido nemmeno di girarmi Tra l'altro Cosa Ho un One of them Your wife Ok Non mi fido nemmeno di leggere l'inglese Ok Madonna ma che bebi Di che tieni Porca puttana Ma fatte l'hanno lavata Almeno una doccia Madonna Una doccia Ma pure lo shampoo C'è per farti appunto No oddio 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 Ok ok Rimani sporca come sei E non me ne frega niente Se ti sfottano tutti quanti Ma fai come cazzo Non so dove andare Senti Sentite vado avanti Non so sto posto dove mi porta Però vado da qualche parte Da questo Oddio No raga se mi spunta davanti Ho una paura bestiale Raga No vi giuro Ho il cuore che mi trema Che mi batte malissimo Raga non so dove andare Dove cazzo sto andando Dimmi che è l'uscita Ti prego Uscita Grande raga Grande uscita Che cazzo sta facendo No Oddio Oddio No 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 Stai fermo con sto cosa Madotto L'infizzo Bravo Bravo uomo di merda Bravo Rocky Con questi muscoli D'addio Guarda guarda Ecco che cazzo Mi guardi a fare Penso sia finito Non lo so Madonna No raga E' finito Madò è finito Madò tre ore in quella casa Tre ore in quella casa No raga è stato bruttissimo Non lo voglio fare Ma è più Perché tra l'altro Sono lì Ecco sono quasi le nove Quindi mamma mia Non ci sta nessuno a casa Cioè sono solo Tra l'altro E Ho avuto una paura Che prendete il cuore Mi batteva All'impazzata Quindi raga Non lo voglio mai rifare Però vi dico che in un prossimo video Farò un minecraft Quello è assicurato Mamma mia No raga è stato orribile Per favore questo video deve superare al più presto gli 8 like Perché è stato orribile raga Mi giuro è stato orribile Basta Io mi fermo qui E non vado più avanti con il video Scherzavo Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi prego Iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche E ti dà like al video Qui da Gigi Mix è tutto Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti